Oh, ma sono il fungo. Ok. Ma non corri, guarda. Ah, aspetta, mi sono bocchiato. Ah, no. Oddio. Ma come cazzo sei agile? Dove sei? Hai seguito di te? Half-Life chapters. Infatti dovremmo andare qua prima di tutto. Cos'è? Blue Shift chapters, ok. Quindi si comincia da qui? Eh, ok, si era chiuso il cesso. Ma guarda quanta roba. Oh! Sono un imbecino. Vieni, vieni. Mi stava andando i 200 ping che mi stava andando. Oddio. Non è che hanno acceso il coso? No. I fly. Oh! Guarda, guarda quello, guarda quello! Ma come vi piacciono. Eh, la ciao. No. No, mica, ti vedo qualcosa. Salve! Sono esperti che... Ma funziona una prova! La funziona, aspetta, aspetta. Ma se non li attiviamo tutti. Riprova, 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 vai. Tre. No! Ma che cazzo vuole? Ma che cazzo vuole? Scusa. Ok, facciamodino al tre. Sei pronto? Devi... Ah! No, al tre. Uno, due, tre. Sì, ecco, funziona. Dove corri? Dove corri? Dove corri? Guarda sto quadro, rappresenta l'Europa. Cosa? Pulino bianco. Madonna, ci metto tre ora per vedere i gay, stavo per dire. Però guarda come cammino, sembra un ballerino. Più o meno. Sì, vai via! E' bambino! E' bambino! E' bambino! E' bambino! E' bambino! Che cosa? No, no! Trenno! Ma come è possibile? Giorgio! Splicate! Oh no, 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 no! Vai giù, vai giù, vai giù! Al verbo porza nenni! Al verbo porza nenni! Al verbo porza nenni! Oh, merda! Oddio! Mettiti qua, mettiti qua! Sono sopra il treno! Sono sopra il treno! Sono sopra il treno io! Sì! 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 Ok! 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 Ti vedo volare! Ti giuro che ti vedo volare! Infatti! No, io vado indietro, ho paura! E' verdo! Un helicoptero guarda! Vediamo! Guarda i tipi laggiù! Guarda lì! Eh, la ciao! No, questa no! Tipo quelli là sotto stanno dicendo, ragazzi avete sbagliato! Non si sale così! E' un modo di dire! Sali sull'ascensore! Oh no no no! Qui c'è la porta del volto! Oh! Fai tipo limbo! Mettiti qua! Funzionale! 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 Fallo fallo un attimo! Che c'è? Oddio! 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 Guardami negli occhi! Oddio! Oddio! Va la torcia! Eh! 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 La luce si è andata via lì! Micchia! E' inquietante stare qua! Guarda il dottore! È là! Dottore! Aspetta! Ma ha visto che... S'ha piccata la porta? Sì! È rimasto intrappolato! Che imbecino! La porta! Ma c'è una... Come hai fatto? No! Quella è... Oddio! Ah! Ma che hai la testa? Ho una granata sopra la testa che io... No! Con X ci fa! Beh! Guardami! Oddio! No! Oddio! Io lo so! Ci sei bene? Sì sì! Fai limbo! Fai limbo! Oddio! Ah! Guardalo! Guardalo! Guarda c'è me! Guarda c'è me! Fai cazzo! Se saltiamo la sopra? No! Coglione! Chi stai guardando? Oh! Ecco! Ecco! Siamo arrivati! Siamo arrivati! Ma adesso scusa! Questo qua si bugga! Che cazzo! Cosa! Ok! 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 Cosa stai facendo? Stai scopando la porta! Che schifo! Ok! Levati! Ciao! Bello! Cosa? Ehm! Sì! Guarda! Come mi scopo la porta! Che schifo! Guarda! È lento! Guarda! È lento! Oh! No! No! Guarda! No! Oh! Oh! Oh, madre. Che cazzo hai fatto? Facciamo un casino, cos'era? Che cazzo hai fatto? A te l'onore, a Dio. Che se vuoi, oh? Che cazzo hai fatto? Non vedo niente. E sono... E sono il mostro. Che cazzo? Guarda! Sei cazzolo. Ms. Anne, fiii a cazzato. Armi la porta, subito! Oddio! Vieni via! Che vandali! sociology Mi curo! Mi curo due secondi ! Mi s'unico, ahia! Non mi dà i calci in boccia. Noi veniamo qua... ehm pfff Cosa? Cosa? Ma che cazzo di problemi c'ha Ma che cazzo vuoi? Guarda questo Non ci fa entrare, andiamo via Guarda questo come sculetta E' incazzato E' io fumo Pfff Stai afficchiando la macchinetta Guarda questo Guarda questo Ups Ma che cosa ti fa E infatti quando Se nel mondo avessimo avuto Guarda Che cazzo ti ha fatto? Vai 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 Prendi Mi prendo il luce Oh bene una cazzana Fatti vedere se è uguale Ma c'è gente qui Si c'è gente qui 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Cos'è? Un libro Uccidi? No eh Hanno aperto la porta? Uff L'hanno aperta e l'hanno chiusa L'hanno chiusa